Sì, è un taglio impensabile, non pensavamo arrivare a questa cifra abbastanza corposa, poi non saranno solamente 150 milioni di euro per il 2015, ma si proterranno anche per anni successivi, quindi il taglio non è solo per l'anno in corso, ma anche che dà delle situazioni diciamo abbastanza difficoltose per la nostra attività e per i servizi che noi abbiamo da erogare ai nostri assistiti e che quindi ci mette in una situazione un po' di difficoltà. Sì, nell'immediato, quindi cerchiamo di fare in modo di poter cambiare questa normativa e quindi per vedere se appunto si riesce a ristabilire o quantomeno a modificare le situazioni pregresse. Quali servizi più a rischio secondo lei? Ma noi come padronato facciamo molti servizi, quindi dalle domande di pensione dirette, l'Inps particolare, poi più che altro nel fronte della famiglia, quindi domande di accompagnamento per gli anziani, anche per le situazioni di chi ha in famiglia i miei dati civili, per l'handicap, per l'INA, perché non c'era una malattia professionale oppure che ha avuto un'infortunio e si rivolge direttamente a noi per chiedere se l'indennizzo, il ponteggio è stato dato, è giusto oppure no. Quindi questi sono i servizi principali che possono essere messi in discussione nel caso in cui si mantenga nel proseguo del litio legislativo questa normativa. Avete incontrato dei parlamentari della Toscana, cosa gli avete chiesto? Abbiamo chiesto appunto quello che dicevo prima, cioè di cercare di modificare questa legge, il massimo sarebbe appunto quello di togliere, di stralciare questo coma 10 dell'articolo 26 dalla legge di stabilità per l'anno 2015, anche perché negli anni precedenti è stata inserita una nuova normativa che dovrebbe andare a reggere nel 2015 e che vede una sorta di ridefinizione del padronato in ambito nazionale.